Li avete torturati bene bene? Sì signore, li abbiamo gonfiati con i due palloni. Hanno pallato? No signore, anche perché se si provavano a montare le palle, gliele tagliavo gliele. Ma cosa hai capito? Hanno pallato? Li avete fatto sputare il rospo? E il rospo gliel'ho dato a mangiare ieri, vivo. Però non lo so se gli è piaciuto. Non lo so. Siamo alla frutta. Ora li faccio parlare i due di eh? O tu va va da giù la tu la tu la tu! Alla volete parlare, non te faccio no! Non te lo diremo mai, brutto buzo giallo! Se non fai ci copia, è vero Lucca? Esattamente Marco. Cacca dao, cacca dao! Cacca dao, senti cacca dao? Che lingua è questa? Ehi, che lingua è questa? Buzo giallo! Boh, facciamo come dice lui lì, sennò si incazza. Aspetta un attimo. Ma nel film del cacciatore la pistola era a tambure, aveva un solo proiettile. Questa è automatica a 12 colpi. Brutto bastardo di un buzo giallo! Brutto bastardo! Vieni tu! Cacca dao, cacca dao! Dai Lucca, fagli vedere come vuole un italiano! No grazie, ma che? A te l'onore per primo! A me l'onore per primo! No grazie, prima tu! Prima tu! Ho detto a te, non mi offendere! Insisto Lucca, insisto! Ora basta! Decido io! Prima tu! Fai culo! Fai culo! Fai culo! Fai culo! Sì